Buongiorno, buona domenica, benvenuti a questa ultima giornata di festival, però abbiamo ancora un sacco di tempo per goderci qualche respiro insieme. Oggi un altro amico di Torino Spiritualità, un altro dei nostri storici amici, Massimo Recalcati, al quale abbiamo chiesto di ragionare su una curiosa simmetria che si instaura tra il movimento doppio del respiro, che è fatto di ispirazione e di espirazione, e il doppio movimento dell'animo umano, che è continuamente lacerato tra due spinte opposte. Quelle spinte opposte, tra l'altro, che abbiamo percepito in maniera chiara e evidente, epidermica durante i mesi che abbiamo trascorso, un desiderio di uscita, un forte desiderio di proiettarsi in fuori, e al contempo un desiderio invece di ritornare dove siamo, di richiuderci, come se ci fosse un elastico che in qualche modo ogni volta che ci slanciamo in avanti ci riconduce indietro. Da cosa dipenda questo? Io ho dei sospetti, ma lascio che sia Massimo Recalcati a raccontarci nel dettaglio cosa ci accade dei. Firma copie, alla fine, sempre in questa dialettica aperto-chiuso lo facciamo fuori. Bene, grazie Armando, buongiorno a tutti. Il piacere è particolare essere qui con voi oggi in presenza. Non so se gli organizzatori di questo festival, pensando al respiro, hanno pensato anche alla condizione di affanno che le mascherine ci obbligano, però il respiro resiste anche in questa condizione di difficoltà. Come scrive bene Simone Regazzoni nel suo libro che presenteremo pomeriggio qui al festival, dovremmo probabilmente ripensare la formula da cui è nata la filosofia moderna, cogito ergo sum. Dovremmo cioè mettere il respiro al livello quantomeno del cogito. Respiro ergo sum. Senza respiro non c'è vita, senza respiro non c'è esistenza. Ma il respiro, come Armando ricordava, si struttura sempre in due tempi. Gli stessi tempi di astole e sistole che accompagnano il battito del cuore, contrazione, rilascio, mettere dentro, portare fuori. E potremmo leggere in questo doppio tempo del respiro qualcosa che concerne profondamente, diciamo, l'esistenza umana, la realtà umana. Potremmo cioè da subito individuare almeno due anime dell'umano. Da una parte la figura è quella dell'aperto e come dire esiste una spinta dell'umano verso l'aperto, quello che Nietzsche descrive come l'anima marina dell'uomo. L'anima marina significa che l'uomo ha un rapporto col mare se il mare è, diciamo, un simbolo dell'infinito, dell'apertura, dell'allargamento dell'orizzonte, della potenza che espande appunto la nostra vita, che esige che la vita sia vita aperta. In Occidente abbiamo una figura che proviene dal mondo classico che più di tutte forse rappresenta questa anima marina, che è la figura di Ulisse. Ulisse è una figura dell'aperto, Ulisse è una figura, diciamolo meglio, è una figura dello sconfinamento. Tutta l'Odissea racconta un'esperienza continua di sconfinamento, andare verso l'ignoto, andare verso lo sconosciuto, fin anche sconfinamento della vita verso la morte, andare nel regno dei morti. Come dire, Ulisse è una figura non tanto senza paura, torneremo sulla figura della paura, ma è una figura che sa confrontarsi col buio della paura, che sa entrare in rapporto con la paura, potremmo dire addirittura che sa essere amico della paura, entrare in una relazione di amicizia con la paura. Ma resta il fatto che appunto la libertà di Ulisse, quella che Dante per certi versi condanna in quanto hubris, in quanto, diciamo così, potenza che non tiene conto del limite e che appunto porterà Ulisse nel racconto che anche Dante recupera a sconfinare nella morte, proprio perché non ha tenuto conto, diciamo così, della parola socratica, del conoscere se stesso. La conoscenza di Ulisse sarebbe tutta dedita fuori di sé, come animata da una volontà di potenza che non tiene conto dell'interiorità, diciamo così, e dunque questo comporta la fine tragica di Ulisse che Dante racconta, dove appunto il mare si chiude sopra la nave di Ulisse che oltrepassa le colonne d'Ercole. Dunque noi abbiamo, tutti noi portiamo con noi stessi, diciamo, questa anima marina, l'amore per l'aperto, l'amore per il mare. Ma questa rappresentazione dell'umano non è sufficiente, l'umano non è solo spinta verso l'aperto, non è solo passione per il mare, passione per il viaggio. Ulisse è una grande figura del viaggio. Non è solo passione per la conoscenza dell'ignoto, ma è anche come, se uno sfoglia le prime pagine di Massa e Potere, un grande testo di Canetti, è anche terrore, timore dello sconosciuto, terrore, timore dello straniero. Canetti parla appunto del brivido che percorre il nostro corpo quando in un viale di una grande città, per sbaglio, tocchiamo lo sconosciuto. È un brivido che ci spinge ad allontanarci, a separarci dall'altro. L'ignoto e lo sconosciuto non sono solo il luogo appunto dell'allargamento della nostra conoscenza, ma portano con sé una minaccia, portano con sé un pericolo. Quindi l'umano da una parte spinta verso lo sconfinamento, dall'altra parte è spinta a rafforzare il confine, a rafforzare il confine identitario, a fare, diciamolo meglio, del confine, della definizione del proprio confine, una vera e propria passione. Io dico addirittura una vera e propria tentazione. Allora il confine noi sappiamo che non è solo, almeno per la psicoanalisi, penso a due grandi autori che hanno parlato di questo, Freud e Bion, la funzione del confine, la funzione simbolica di un confine, di qualunque confine, non è solo delimitare la differenza tra appunto il nostro campo identitario e il campo dell'alterità. Il confine non ha solo come finalità, non ha come finalità principale quella di delimitare l'interno dall'esterno, il mio dal non mio, il conosciuto dallo sconosciuto. Secondo Freud, e Bion ha ripreso questa immagine, il confine deve, come dire, svolgere un'altra funzione essenzialmente, quella di mettere in contatto, in rapporto l'interno e l'esterno, il conosciuto e lo sconosciuto, il mio e il non mio, quello che Bion definisce nella figura della porosità. Il confine è tale se mantiene una certa quota di porosità che mentre da una parte delimita i campi, l'interno e l'esterno, dall'altra parte consente lo scambio tra l'interno all'esterno. E la porosità del confine è innanzitutto, secondo Bion, evidentemente mentale e per questo si può parlare di una mente democratica e di una mente totalitaria. La mente democratica è una mente che concepisce sempre i confini nella loro, direbbe Freud, plasticità o Bion nella loro porosità, luogo di scambio, non solo luogo di delimitazione di campi contrapposti. Al tempo stesso la tentazione a chiudere, che è una tentazione dell'umano, diciamo, che ha la stessa dignità per certi versi e la stessa intensità della passione per l'aperto, trasforma la porosità del confine in muro. Allora noi potremmo dire che il confine che diventa muro, muraglia, filo spinato, che come dire si inrigidisce, indica la prevalenza patologica della pulsione claustrale, della pulsione che spinge a chiudere rispetto alla pulsione che spinge ad aprire. Allora abbiamo uno sbilanciamento, allora abbiamo il tema del porto chiuso, allora abbiamo il tema della muraglia, del filo spinato, allora abbiamo il tema, diciamo così, di un desiderio che diventa, e qui lo dico senza alcun riferimento al ventennio storico, diciamo, che ha caratterizzato la vicenda del nostro paese, un desiderio che diventa fascista. Allora in psicanalisi il desiderio fascista è qualcosa, o se preferite l'inclinazione fascista del desiderio non è solo l'effetto di un analfabetismo politico, di un primitivismo, diciamo così, non è solo qualcosa che noi possiamo giudicare come primitivo appunto, esiste nell'umano la spinta a chiudere la propria vita, cioè a difendere la propria vita. La sicurezza non è solo, la spinta alla sicurezza, non è solo, diciamo, la manifestazione di inciviltà, ma è una pulsione che connota dall'origine, diciamo, l'essere umano. Quello che Freud definisce in un'immagine, se volete, molto semplificata, discutibile anche, però significativa e sintomatica direi, quando una volta Freud dice beh, l'essere umano all'origine è come, ecco l'immagine abbastanza povera, ma come un uccellino nel guscio? Un uccellino del guscio è il guscio, la membrana dura, non porosa del guscio, consente la tutela, la protezione della vita dell'uccellino. L'uccellino che sarebbe fatto per volare nel cielo, senza l'esperienza di qualcosa che lo protegge all'origine della vita, sarebbe una vita morta. Ora, questa metafora, se volete, riecheggia anche all'origine, giusto per darvi il peso delle parole, all'origine dello Stato moderno, quando Hobbes dice appunto che è la paura della morte, quindi la paura che l'altro sia il luogo che possa minacciare la mia vita, la paura della morte che rende possibile l'edificazione dello Stato, come ciò che appunto tutela invece la vita umana da questo rischio sempre presente, sta dicendo che in fondo la protezione della vita è una pulsione della vita, è una pulsione della vita. Ma quando questa pulsione si rovescia e diventa patologica, quando questa pulsione diventa fascista appunto, quando questa pulsione, questa tendenza a chiudersi, a difendere il proprio confine, soffoca la vita anziché proteggerla. È un'immagine, anche qui un'immagine un po' semplice di Freud, ma che ha il suo senso evocare nelle cinque conferenze di psicanalisi, che se volete è il testo di Freud che io consiglio sempre di leggere per entrare nella psicanalisi. Sono conferenze che nessuno più legge, ma di straordinaria efficacia. Si trovano pubblicate cinque conferenze di psicanalisi. Nella terza di queste conferenze voi trovate un riferimento molto strano al convento, quando Freud dice in fondo il nevrotico è qualcuno che desidererebbe vivere in convento. Questa è la brutalità un po' illuministica di Freud. Cosa vuol dire vivere in convento? Ci sarebbe una pulsione claustrale che ci porterebbe a dire basta. Questo tormento, questa esistenza diciamo lacerata, questa violenza, questa inquietudine, questo brivido dello straniero. Poi aggiungiamo subito che in convento le cose non è che vanno così bene, ma questo è come sappiamo un altro discorso. Ma nell'immaginario nevrotico, ma anche nel nostro immaginario, nell'immaginario di tutti noi, quante volte abbiamo pensato basta, vado in Islanda, vado in cima a una collina, vado in un bosco, mi allontano da tutto. Allora la pulsione conventuale, diciamo così, la pulsione claustrale è qualcosa che ci appartiene, che ci appartiene. Allora il desiderio fascista è una amplificazione, potremmo dire, di questa inclinazione ad allontanarci dall'altro, ad allontanarci dall'altro, cioè ad allontanarci dall'aperto. Il convento sarebbe l'immagine, diciamo così, di un luogo chiuso rispetto al mare. Abbiamo una opposizione tra il convento e il mare, ma l'essere umano oscilla in questa opposizione. Allora il desiderio fascista è quel desiderio che rompe il ritmo di Astole e Sistole, il ritmo apertura-chiusura e si fossilizza nella chiusura. E perché si fossilizza nella chiusura? Lo dice molto bene William Reich nelle sue analisi della psicologia delle masse nel fascismo, quando dice il vero problema non è perché le masse nel novecento abbiano accettato passivamente, abbiano subito passivamente la dittatura senza reagire. Non dobbiamo tanto interrogare questo punto, cioè la passività delle masse nei confronti di un regime totalitario che sopprimeva la libertà. Il problema vero, dice Reich, in modo veramente scabroso, che riguarda tutti noi, il vero problema è perché le masse abbiano potuto desiderare il fascismo. Il vero punto, diciamo, fantasmatico da interrogare è come sia stato possibile desiderare il fascismo. Freud lo spiega anche qui in modo molto nel suo stile, cioè ridotto gli elementi essenziali, lo spiega dicendo l'essere umano tra l'obbedienza che protegge la propria vita e l'esperienza incerta della felicità non ha dubbi su cosa scegliere. Sceglie la prima delle alternative. Come dire, l'obbedienza in cambio della libertà è una scelta non tanto del masochista, ma del masochismo che attraversa l'essere umano come tale. Scegliere appunto il padrone, la sottomissione, il consegnare la propria vita all'altro, piuttosto che fare esperienza appunto vertiginosa, incerta, destabilizzante della libertà. Noi abbiamo nel testo biblico diverse figure del chiuso. Abbiamo diverse figure del chiuso, tra l'altro quasi tutte accomunate dal fatto che il chiuso nel testo biblico segnala sempre l'esperienza del fallimento della fratellanza. È curioso questo, no? La fratellanza è un grande tema biblico, ma la fratellanza, se ci pensate, salvo rarissime eccezioni, nel racconto biblico è sempre presentata come un fallimento. Come dire, si parla di fratellanza, ma l'esperienza che noi facciamo, apro una parentesi, diciamo, da psicologia spicciola, vi invito a osservare i vostri rapporti con fratelli e sorelle, chiudo la parentesi. Diciamo, l'esperienza della fratellanza è un'esperienza dell'impossibile, fondamentalmente. Ma il testo biblico non è ingenuo, non è una retorica, perché quando parla di Caino di cosa parla, se non dell'impossibilità della fratellanza, quando descrive addirittura la lotta intrauterina di Giacobbe e Esau, che cominciano a litigare nel ventre della propria madre, o quando parla di Giuseppe che viene svenduto dai propri fratelli, o se prendiamo il cosiddetto Nuovo Testamento, il tradimento di Giuda, o quello di Pietro ancora di più, sono tutte figure, diciamo, che raccontano quantomeno la difficoltà della fratellanza. Ma la fratellanza nel testo biblico è il luogo dell'aperto. Il luogo dell'aperto è il luogo della fratellanza. Frequentare l'aperto significa, diciamo così, fare esperienza della fratellanza. E qui dovrei subito aggiungere che la fratellanza non implica la comunione, anzi, se c'è fratellanza non c'è comunione, che la fratellanza non è la condivisione, anzi è condividere l'impossibilità della condivisione, e qui dovrei aggiungere tante cose, tanti puntini sulle i, per descrivervi che la fratellanza, così come la pensa il logos biblico, non è una retorica del volersi bene, è fare esperienza dell'alterità del fratello, della dimensione sconosciuta del fratello. Ma dicevo, Caino è una figura del chiuso, vorrei soffermarmi anche appunto rapidamente su questa figura. Perché è una figura del chiuso? Ora, Jacques Lacan, quando legge Caino, molto rapidamente nel seminario 1, ci dà un'indicazione molto precisa, dice per capire Caino, cioè il gesto fratricida di Caino, dobbiamo introdurre la figura di Narciso, come dire che è Narciso la, come dire, chiave di lettura di Caino. Questa è la suggestione che Lacan introduce, si limita a dire questo, ma se la prendiamo sul serio questa suggestione, quindi per capire il gesto fratricida di Caino dobbiamo convocare con noi Narciso, che per eccellenza è la figura del chiuso, no? Narciso riduce il mondo, l'apertura del mondo a uno specchio, allo specchio del proprio io, al punto tale che appunto questa passione per il proprio io si rivela essere suicidaria, una passione che porta alla morte. Il mondo narcisistico è un mondo appunto chiuso, è un mondo dell'uno senza il due. L'uno è la postura fondamentale di Caino nel racconto biblico. Quando Eva, faccio una citazione letterale, descrive Caino e descrive il suo rapporto con Caino, dice, con Caino io ho acquisito un uomo. Caino è l'uomo di sua madre. La relazione tra Caino ed Eva è una relazione chiaramente incestuosa. L'incesto è la figura più drammatica dell'uno. Caino non è il figlio di sua madre. Caino è l'uomo di sua madre. Esiste una relazione di possesso esclusivo di Eva nei confronti di Caino, una relazione incestuosa. Caino non ha la possibilità di separarsi da sua madre perché è il suo uomo. Dunque Caino è una figura dell'unico, o meglio, del figlio, non tanto del figlio unico. Perché il figlio, come precisava Levinas, è sempre figlio unico, scrive Levinas, non nell'ordine del numero. Cioè una madre può avere più figli, ma ogni figlio nel desiderio della madre è figlio unico. Ma Caino non è figlio unico, è un figlio che si pensa come l'unico. Diverso è essere figlio unico ed essere il figlio che pensa di essere l'unico. Anche perché se ci pensiamo nel racconto mitico, Caino è davvero l'unico, cioè sarebbe il primo figlio, l'unico figlio al mondo. Quindi il narcisismo è leggermente, diciamo, alimentato, fecondato da questa condizione mitologica di essere davvero l'unico figlio. E poi cosa accade? Accade l'intrusione di Abele, che il testo biblico definisce proprio il figlio aggiunto. Qualcosa si aggiunge, il due si aggiunge all'uno. Qualcosa si aggiunge. Lacan parla in questo senso di complesso di intrusione che accompagna sempre la nascita del secondo genito. Il complesso di intrusione è vissuto dal primo genito. Qualcosa accade, si aggiunge ed altera gli equilibri di una famiglia, introduce una, come dire, distribuzione differente della libido, crea un trauma di intrusione. Cioè spodesta Caino dalla condizione di essere l'unico figlio. Lo fa esistere come unico, ma non come l'unico figlio. E qui abbiamo, se volete, la prima risposta di Caino ad Abele, che viene rafforzata, adesso non entro molto nel merito di tutto il testo che andrebbe commentato con più tempo, ma diciamo Caino fa esperienza non solo dell'intrusione di Abele, ma anche dal fatto che Dio, il terzo rispetto alla coppia Eva-Caino, predilige i doni di Abele ai propri. Dunque fa esperienza di una sorta di frustrazione. La frustrazione è una delle matrici della violenza. Il misconoscimento, la frustrazione, l'essere messi da parte è una delle radici della violenza. Quando le periferie, per esempio, si infiammano, si rivoltano, è perché, diciamo, non sentono di non trovare ascolto, che la loro parola viene, come dire, negata, misconosciuta. E questa è una delle origini della violenza umana, l'esperienza appunto della frustrazione, del misconoscimento, dell'essere messi da parte. Ma il testo biblico ci aggiunge una seconda matrice della violenza umana, che è più interessante. Diciamo, la prima ha un rilievo sociologico più evidente. C'è violenza quando appunto c'è non riconoscimento. La violenza sarebbe una risposta al non riconoscimento, all'essere esclusi. La violenza sarebbe una risposta, diciamo così, alla esperienza dell'essere stati esclusi. Ma c'è una seconda matrice che il testo biblico evoca, e allora qui veramente Narciso diventa indispensabile. La violenza invidiosa, che è la violenza di Caino, che è un nome del chiuso, si rivolge all'altro non solo in quanto agente della frustrazione, ma in quanto luogo dell'ideale. Cioè Abele sarebbe l'ideale di Caino esteriorizzato. E dunque la violenza invidiosa colpisce l'altro, in quanto l'altro realizza ciò che io vorrei essere e non sono. In questo senso è sempre narcisistica. Così come Narciso cerca di raggiungere la sua immagine e l'immagine gli si sottrae sempre, allo stesso modo l'invidioso, nella violenza, cerca di colpire quell'altro che lui vorrebbe essere e che costantemente l'esistenza dell'altro gli ricorda di non essere. Quindi quando Caino colpisce Abele, colpisce l'immagine ideale di se stesso in quanto da sempre sottratta. Non può essere Caino Abele. E in questo senso allora Caino è una figura narcisistica, in questo senso la violenza presa in questa forma riflette sempre una matrice narcisistica. Cioè in questo senso la violenza, come diceva Bene Deleuze, la violenza sempre non parla. Dire che la violenza non parla, che cosa significa? Che la parola, dove c'è la parola c'è attenuazione della violenza, della violenza fratricida, attenuazione della violenza invidiosa. Dove c'è la parola la violenza cede. Quando c'è la violenza è la parola che cede. Abbiamo fatto tante volte esperienza semplicissima, quando diciamo, quando si parla solitamente la violenza è come sospesa. È vero che le parole a volte assomigliano a dei pugni o a dei proiettili, ma questo è un altro discorso. Diciamo così, la violenza non parla, dice Deleuze, potremmo dire noi leggendo Deleuze che la violenza assomiglia è un'allucinazione, no? L'allucinazione di poter essere appunto l'unico, di far fuori l'altro, di non passare attraverso la tortuosità inevitabile della parola. E dunque Caino è la figura appunto del chiuso, è la figura dell'uno che vorrebbe annientare il due come sede della sua alienazione. Ma noi abbiamo una risposta a Caino. Nel testo biblico, il cosiddetto Antico Testamento, ne abbiamo diverse, una è quella di Giacobbe, su cui non mi soffermerò. Giacobbe è già una risposta a Caino, ma abbiamo la risposta delle risposte, se posso dire così, la risposta per me è più convincente al dramma narcisistico di Caino, al dramma del chiuso, che è la figura per eccellenza dell'aperto nel testo biblico, che è la figura per eccellenza del respiro, del respiro nel doppio movimento nel testo biblico, ovviamente è la figura di Gesù. Se c'è una risposta a Caino, per me è convincente, questa risposta la dà Gesù. In che senso Gesù risponde a Caino? Risponde a Caino in modo convincente per me, perché sottrae la vita, sottrae, attenzione, il giudizio sulla vita da ogni dimensione morale. Quando Sant'Ambrogio nella Basilica milanese prendeva parola e commentava Caino e Abele, nelle sue omelie, qualcosa che io ho utilizzato per educare i miei figli, diceva, presentando appunto il dramma di Caino e Abele, attenzione, non pensate che Caino e Abele siano uno il bene e l'altro il male, in modo freudiano, diceva Sant'Ambrogio, pre-froidiano diciamo. Dobbiamo pensare che Caino e Abele sono parti, usavano le parti interne, il tema della parte interna è un grande tema della psicanalisi. Caino e Abele sono forze interne, con un contrasto attivo interno, diceva Sant'Ambrogio. Allora se noi invece, come dire, identificassimo Caino e Abele come il male e il bene, noi entreremmo nel campo del giudizio morale. E la morale si fonda proprio sulla divisione del bene e del male, quindi su una sorta di ipostasi dei valori, di ipostatizzazione dei valori. Ecco, se c'è qualcosa, secondo me, di straordinariamente convincente nella parola di Gesù, è che Gesù, come dire, azzera completamente questa visione moralistica della vita, cioè la dimensione extramorale di Gesù. Perché la azzera completamente? Perché, diciamo, e in questo senso supera l'identificazione di Caino come luogo del male. Apro una parentesi, questo superamento di Caino come luogo del male è già nell'Antico Testamento, perché voi vi ricordate che a conclusione della vicenda Dio interviene, non assolve Caino, ma imprime un segno su Caino. Questo segno, questa marca di Dio su Caino, indica da una parte la responsabilità di Caino che non viene meno rispetto all'atto che ha compiuto, ma dall'altra parte disidentifica Caino dall'assassino. Caino ha commesso un assassino, ma questo non lo rende per sempre assassino. Ecco perché in una prospettiva cristiana l'ergastolo è una follia. Non per sempre. E non per sempre significa interrompere, diciamo, interrompere la catena ripetitiva di una giustizia solo ritorsiva che farebbe, che innescherebbe un movimento di ripetizione infinita della violenza, per cui Caino che ha assassinato sarà assassinato a sua volta. Il marchio di Dio sospende questa concezione puramente vendicativa, puramente ritorsiva della giustizia, introducendo appunto qualcosa che per un verso commemora il lutto del fratello e per un altro verso sottolinea la responsabilità etica di Caino. Chiuso la parentesi. Torniamo al punto. Perché Gesù è una figura dell'aperto? Perché la sua parola advera la concezione moralistica dei valori? Beh perché innanzitutto, adesso permettete, ho poco tempo quindi devo essere brutale nelle mie affermazioni, ma che andrebbero tutte discusse con più calma, ma se dovessi dire appunto con poco tempo, qual è il metro di giudizio della vita che Gesù introduce? Abbiamo detto che non è morale, che non implica la distinzione bene e male, che non implica dunque la conformità della vita ai valori. La vita giusta non è la vita che si conforma a valori che gli preesistono. Il criterio di Gesù è molto semplice e mi assumo la responsabilità di questa formula che vi propongo. Il solo criterio di giudizio di Gesù è quando la vita giusta è la vita viva. La vita giusta è la vita capace di vita. La vita giusta è la vita in sovrabbondanza di vita. La vita nel peccato, se dovessimo tenere questa... è la vita che ha paura della vita, è la vita che si difende dalla vita, è la vita che si protegge dalla vita, è la vita che punta a fuggire dalla vita. In questo senso il convento per come lo pensa Freud è un peccato, per come lo pensa Freud non è che la vita spirituale sia sempre appunto una fuga dal mondo, ma se lo fosse, se fosse fuga dal mondo, fosse fuga dalla vita, sarebbe peccato. Quindi il criterio è extramorale. La vita è giusta se è vita capace di vita. Cosa vuol dire vita capace di vita? Vita capace di generare vita e non morte, di allargare l'orizzonte stesso della vita. Gesù ci dà tante immagini, no? La più semplice è una vita capace di generare frutti. Ecco perché è solo dal frutto che si riconosce l'albero, non dall'eidos, non dall'idea dell'albero, ma da ciò che l'albero genera, non dal colore della pelle, dalla razza, dalla provenienza sociale, da quello che l'albero genera, cioè dal frutto. Quindi dalla capacità di vita, dalla potenza di vita, si potrebbe anche dire, dalla potenza di vita. E questo mi pare l'unico modo per intendere, una cosa che da bambino quando venivo educato al catechismo mi lasciava veramente molto perplesso, è l'unico modo con cui io riesco a leggere un passaggio dei Vangeli che fu per me proprio una specie di piccola tortura, diciamo, intellettuale, che è quella in cui ad uno dei discepoli muore il padre e il discepolo chiede a Gesù di avere il tempo per seppellirlo, cioè per fare il lutto del padre. E Gesù, ecco la piccola tortura, risponde in modo stizzito dicendo non guardare indietro, lascia che i morti seppelliscano i morti. È una brutalità se uno legge, diciamo, la cosa non iscrivendola dentro l'orizzonte della parola di Gesù. Ma se noi siamo in questo orizzonte, cioè che la vita giusta è la vita viva, è la vita che non, come dire, non si lascia chiudere nella paura della vita, che dunque è una vita non melanconica, è una vita che non guarda indietro, che non guarda quello che è stato, che non resta nel rimpianto, che non resta nel cordoglio cronico di ciò che è stato, ma è una vita appunto aperta verso la sovrabbondanza della vita, allora questa frase secondo me assume un'altra luce. Non semplicemente la luce di chi nega il giusto tempo del cordoglio, ma di chi sprona la vita verso la vita, verso la vita. Perché la tentazione del necrologio, la tentazione della chiusura della pulsione conventuale, abbiamo detto, appartiene all'umano, è contro questa tentazione che la parola di Gesù si muove. Come fai a guidare, cito Luca che appunto commenta questa scena, come fai a guidare l'aratro se volgi lo sguardo all'indietro? Volgere lo sguardo all'indietro è una malattia dell'umano, diciamo. Ma l'altro punto, quando dicevo la paura è il peccato, la paura è il vero peccato secondo Gesù. Possiamo citare qua tanti passaggi, ne cito uno solo, paura e il peccato. Pensate a come i discepoli fuggono nella notte del Gezzemani. Pensate alla parabola dei talenti, il servo che ha un solo talento, diversamente dagli altri che ne hanno di più del suo talento, lo mette sottoterra per paura di perderlo. E il Signore che torna e trova quanti talenti hai, uno solo, ma gli altri li hanno moltiplicati. Ecco, la vita come capacità di moltiplicazione è un altro grande tema della parola di Gesù. La vita è viva quando sa moltiplicare, no? Sa moltiplicare i pani e i pesci, sa rendere i talenti generativi. Ma chi invece mette per paura il talento sottoterra, ecco il peccato. Il peccato è mettere il proprio talento sottoterra, non fare niente del proprio talento, non fare niente del proprio desiderio. Ma questo vuol dire anche, questo è un secondo aspetto, che il criterio di giudizio non passa attraverso la legge, come noi la immaginiamo. Sono infiniti passaggi di Gesù su questo punto, cioè noi immaginiamo la legge come il luogo di un verdetto, di una sanzione sulla conformità o meno dei nostri comportamenti alla legge. Da questo punto di vista la legge sarebbe un peso. Gesù torna molto spesso. Io vi do la possibilità di togliere dalle vostre spalle il peso della legge. Seguitemi perché il fardello della legge sarà meno pesante, si alleggerirà. Sono venuto in fondo per liberare la legge dalla legge. Ma cosa vuol dire liberare la legge dalla legge? Vuol dire ovviamente emancipare l'uomo dalla passione per il sacrificio, emancipare l'uomo dalla obbedienza alla legge che impone il sacrificio. Vuol dire dare una versione antisacrificale della legge, ma c'è un punto su cui insisto ancora un po' e poi mi fermo, che è il punto chiave. Lo troviamo in un passaggio di Kierkegaard, quando Kierkegaard dice per comprendere la parola di Gesù è fondamentale non tanto riflettere sull'opposizione virtù-peccato, perché virtù-peccato, se noi riflettiamo su questa opposizione, siamo nel campo morale. Il virtuoso non pecca, cioè non trasgredisce la legge, obbedisce alla legge e invece colui che compie il peccato trasgredisce la legge. Non è conforme alla legge. Allora Kierkegaard dice la vera sovversione di Gesù non è tanto quella di ribadire questo principio morale. La vera antitesi è quella tra il peccato e la fede. Questo è il punto centrale. Il peccato consisterebbe nel non avere fede. Ora, per un laico, perché io sono un laico, non sono un teologo, quando leggo questa cosa, il peccato sarebbe non avere fede. Come lo interpreto? Lo interpreto dicendo il peccato sarebbe non avere fede nel proprio talento. Il peccato sarebbe rinunciare al proprio desiderio. Il peccato sarebbe venir meno, direbbe l'account, cedere sul proprio desiderio. Non avere fede nel proprio desiderio. E quando, cito questo passaggio, Marco, la scena che anche Papa Francesco ha evocato nel tempo del Covid, della barca in preda alle acque, Gesù che dorme a poppa tranquillo, i discepoli che lo svegliano, impauriti, temono di morire. E Gesù gli risponde, ma perché siete così paurosi? E questo uno dice, beh, voglio vederti. No, perché è assolutamente umano essere paurosi. Anche qui si aprirebbe un lungo discorso. La paura non è, come Caino Abele, il contrario del coraggio. La paura è una forma del coraggio. Cioè, o meglio, il coraggio è il modo di trattare la paura, non di emanciparsi dalla paura. Ma insomma, rimaniamo su perché siete così paurosi. E poi aggiunge, ecco il punto, ma come mai non avete fede? Chi ha paura, io leggo, chi ha paura è chi non ha fede. La paura è il segno dell'assenza della fede. Ma per un laico l'assenza della fede è l'assenza nella forza del proprio desiderio. Credere nella forza del proprio desiderio è ciò che ci fa stare nella paura, ma non pietrificati dalla paura. Grazie a tutti.